Manu, sono tornato da Avellino, dove ho fatto una masterclass con i ragazzi di Fotodiego che salutiamo, e effettivamente mi sono confrontato con tanti ragazzi della nostra età, più piccoli, più grandi, su quelli che sono un po' i miti della fotografia, del videomaking, la gente pensa, la gente pensa, si racconta tante cose, e ho pensato, anzi forse abbiamo pensato, forse questo è frutto di un pensiero comune, forse stiamo diventando un'unica entità, oggi ragazzi sfatiamo i miti legati a questo mondo, e vi riveliamo che forse fare video e foto è un lavoro come un altro e non state salvando il mondo, e soprattutto è un lavoro di merda, buon lunedì, sigla! Sono vestito di merda oggi perché dovevo andare a costruire un set e quindi sono vestito da cantiere. Ma io invece sono vestito come tutti i giorni. Perché non fai mai un cazzo? Perché io non sono bravo con i lavori di manovalanza, questi lavori da rude. Qual è? Sono una fatina. Partiamo subito diretti, tra l'altro vorrei ricordare ragazzi che se non ci seguite ancora su Instagram fatelo e anche su TikTok perché siamo tornati, abbiamo un piano editoriale e abbiamo dei pazzi contenuti, Crop quest'anno vi farà vedere cose. Sì sì, siamo pazzi in culo ragazzi. Quindi mi raccomando, seguitici Crop Studio su TikTok e Crop su Instagram, comunque qua sotto trovate tutti quanti i link, preparatevi, siamo belli caldi. Manu, così di getto, il primo mito che ti viene in mente, vai! Tanto lo faccio in post. Eh, questa è bella, eh. Questa è penso la mia cazzata preferita che sento e che mi viene chiesto. Tanto lo sui stessi in post. Sì sì. Lasciamo questo bidone dell'umido accanto alla modella mentre posa. Tanto lo togliamo in post. Poi togli la modella per sbagliare in post. E lasciati. È successo un casino proprio, eh. Tolto la modella. Sì, questo, il fatto che le persone pensino che si possa fare tutto in post. E non parliamo dei clienti, cioè, togliamo i clienti, no no, i fotografi, i videomaker. Qui parliamo di gente che fa foto e video, che siano appassionati, professionisti, professionisti non professionali, professionali non professionisti, amatori non professionali professionisti, tutto quello che volete e tutte quelle persone che pensano che in post tu possa risolvere qualsiasi problema, anche la fame nel mondo praticamente. Eh, mi spai un po' dopo sull'iPhone. E praticamente, quando è in realtà, penso, una delle più grandi cazzate di che bisogna imparare quando si fa foto. Anche io, devo essere sincero, pensavo questa cosa. Ma io penso che sia un approccio che è classico di chi non sa niente di fotografia. Insomma, quando non hai nemmeno determinate cose. Non è determinate cose, secondo me è proprio ignoranza di come si fanno le cose. No, no, determinate cose inteso come conoscenze, non come luci, eh. Ah, ok. O come attrezzatura, cioè proprio un... mi mancano delle robe che non so come ottenere mentre sto girando e quindi dico... Però se una persona fosse un minimo curiosa, che qui torniamo al solito discorso, siate curioso per me, e si andrebbe a informare e scoprirebbe, ah, io non posso fare questa cosa e in post non la farò mai perché non possiedo determinata attrezzatura. E tra l'altro poi se non sei nemmeno bravo in post viene ancora peggio. Io ti racconterò un aneddoto. Ti racconterò un aneddoto. C'è stato per un periodo in cui, non so quando avevo iniziato da non troppo tempo, che mi... ero... stavo sperimentando su Lightroom per fare color e quant'altro. E c'era un fotografo americano che seguivo e adesso non seguo più perché fa delle foto di merda ora, non so se... Getro Alaba, sicuramente qualcuno lo conoscerà. faceva una color bellissima, caldissima, tutto caldo, tutto, ma un forno. E io cercavo di replicarla in post. Chiaramente partendo magari da una foto fatta che cazzo... lui scatta solo in studio. Quindi tu immaginati, luci caldi in studio, io provavo a replicarla su una foto magari fatta alla medio padana di Reggio Emilia. Ah, quindi tu in poca porra prendevi lo slider di Lightroom. Ci provavo in mille modi col pannello HSL, lo slider di temperatura... Il punto qual era? Che io non sarei mai riuscito a fare quella cosa. Perché la foto di partenza aveva delle cose strutturali che erano funzionali alla color che sarebbe dovuto andare a fare. Di conseguenza, lavorare durante la fase di scatto ti mette poi in fase di editing nella condizione di poter fare cose e non poterne fare altre. Un po' come la gente che fa i tutorial per il color grading, tipo quello dei film, tipo Joker, Dune, Euphoria, Revenant... Natale sul Nilo. Però con delle clip fatte al cross. Come puoi fare la color di Dune al cross studio di Milano con tutto il bene che vogliamo ai nostri fratelli del cross studio? Quel film è stato girato nel deserto. Vero. dove c'è la sabbia. Che la sabbia con la luce... Cosa succede con la sabbia con la luce? Ti butta della luce calda di rimbalzo sopra. Fate una foto alla sabbia a mezzogiorno nel deserto. Io non ci sono mai stato, ma sono certo che sarà un... E di conseguenza, come fate a replicare la color di una cosa che è stata fatta in un determinato... Ma anche solo banalmente, prendiamo Joker come esempio... Che è l'esempio più classico del mondo. In questo periodo siamo proprio spammando di nuovo Joker, no? Cioè, il punto qual è? È che uno dovrebbe concepire la fotografia di Joker e poi la color deve enfatizzare la fotografia. Cioè, se torniamo sempre al punto del... Eh, ma in post poi stravolgo tutto quanto. È vero, magari se sei veramente un drago in Da Vinci, eccetera, lo puoi anche fare. Però comunque non riesci a ottenere il risultato perfetto. Esatto, ma non sarà mai quella roba lì. Se io seguo un po' di tizi su TikTok, c'è un piccolo meandro dei social di gente molto brava che cerca di riprodurre effettivamente la fotografia. Perché poi secondo me deve essere quello l'intento. E lo stiamo scoprendo sempre di più da quando abbiamo cominciato a lavorare molto di più con la luce. Perché poi qui si ride e si scherza, ma alla fine noi siamo artigiani della luce. È vero. Porca puttana. Diciamolo bene queste cose. È vero, noi scriviamo con la luce. Esattamente, ma anche disegniamo forse. E quindi, oggettivamente, ti rendi proprio conto che se vuoi una luce calda, al posto che mettere lo slider a 6500 su Lightroom, puoi fare la luce calda. Colpo di scena. È il punto che la luce calda andrà a creare dei giochi di luce con luce calda nella scena che tu non potrai replicare in post. Perché è quello il punto. E la cosa che ho notato, ad esempio, parlo ovviamente a livello fotografico, ma è la stessa identica cosa al lato video. Quando la fotografia di una foto, quindi in fase di scatto, è fatta bene, con un certo stile, con un certo mood, con un certo tipo di ricerca, poi in post uno non deve fare un cazzo. È un po' come avere una make-up artist che ti fa un bel grooming sulla pelle, tu non devi più sbatterti. Sì, non devi metterli con la cazzuola e il calcestruzzo a piallare le tipe, perché porca puttana vanno a dormire alle 5 di mattina più i giorni. Sfattiamo l'ultima roba, sempre sulla color correction. Pertanto, se volete fare un tile orange, al posto di farlo in post mettendo il blu nelle ombre, figa, mettete una luce blu nelle parti più scure della vostra scena. In post non si può fare tutto. Dovete lavorare sulla fase di scatto e lavorare meno in post. Secondo me questo è lo step che fa chi ha capito come funziona la fotografia. Chi pensa che in post si possa replicare qualsiasi color su qualsiasi cosa, si possa fare qualsiasi cosa in post in generale, quindi rimuovere, toglie, fare e dire, secondo me dimostra chiaramente che non ha capito un cazzo del suo lavoro. Per me questa cosa qui è inequivocabile. Quindi, se siete questo tipo di persone, ho una bruttissima notizia per voi. Spoiler. Un altro mito. Io ne ho uno così, fresco, 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 che riguarda i fotografi ma anche i clienti. Smettiamola di raccontarci che i nostri clienti non capiscono un cazzo. È vero, sono d'accordo. Sapete perché non capiscono un cazzo i nostri clienti? Perché voi non gli spieghiamo. Perché voi non gli fate capire un cazzo. Quindi, questa roba qua, ecco, questa roba qua da venire è venuta fuori molto spesso, però sai, il cliente ti dice che... Perché è giusto che sia così. Dall'altra parte non c'è... Anche perché vorrei qui aprire una parentesi. Se il cliente ne capisse di fotografia... Non lo farebbe fare te. Non chiamerebbe te. Risparmierebbe x mila euro e non chiamerebbe te, molto semplicemente. Perché io, se ho bisogno di farti le foto, non chiamo qualcuno e gli spiego come deve fare le foto. Le faccio io. Vero. Vero, vero, vero. E in realtà questo, secondo me, è un discorso che va al di là della fotografia. Quando non siamo in grado di fare qualcosa, si dà la colpa a qualcun altro per sollevarci appunto dalle responsabilità. E questa cosa va al di fuori della fotografia. È un problema comune, ci sta. Io, quello che dico sempre, ho sempre detto, i clienti vanno istruiti per essere affini poi al nostro modo di lavoro. E lì poi parte la scrematura, ovvero quei clienti che sono affini al nostro modo di lavorare e di conseguenza abbiamo formato a capire le cose secondo il nostro modo di pensare. E i clienti invece che non capiscono un cazzo. Perché ci sono anche quelli che non capiscono un cazzo. Ci sono anche fotografi e videomaker che non sono. Però ci sono anche tanti fotografi e videomaker che non capiscono veramente un cazzo. Sono dei cretini. Esatto, esatto. Di conseguenza è così. Non diciamo troppe cose. A parte le cazzate, secondo me, visto che hai parlato di clienti, un'altra cosa che mi sta... Io odio chi dice questa cosa, che i primi lavori devono essere gratis, perché devi fare la gavetta. Devono essere gratis o comunque sottopagati. Ragazzi, è lavoro. Non ho mai visto un idraulico che il primo tubo che monta lo fa gratis. Questo discorso qui in realtà è un tema che mi sta un sacco a cuore. Perché io sono delle idee... Ti lascio la parola, bevo un po' di acquetta intanto. Bevi un po' di acquetta, che fa sempre bene. No, perché sono in post-sbronza e mi interropevo molto. Perché io allora sono dell'idea che un fotografo, un videomaker, molto semplicemente, può fare la propria gavetta attraverso i processi e i progetti personali. Se io faccio uno shooting in studio, su un limbo, su un fondale, non so, di moda, per un progetto personale, non ho bisogno di super outfit o di fare chissà che cosa. Già da un progetto personale con quell'impronta si riesce a capire se un fotografo è in grado di affrontare un determinato tipo di lavoro e è adatto ad un tipo di lavoro. Createvi il vostro portfolio con progetti personali e poi proponetevi. È ovvio che al primo lavoro non potete chiedere 5.000 euro a giornata. Ovvero. Perché chi cazzo ve li dà? Ma probabilmente non avrete neanche l'attrezzatura adatta per poter chiedere una cifra del genere. Perché la cifra non è soltanto in funzione delle vostre competenze, è anche in funzione di ciò che mettete sul piatto di concreto. Quindi, in modo di lavorare, attrezzatura, qualità che offrite, c'è anche questa roba qua. E quindi, i primi lavori, è giusto che una persona venga pagata come deve essere pagata. Chiaramente c'è quello che va su un set a fare l'aiutante, il runner, magari si inizia da mansioni più piccole che vengono pagate meno, però se io ti pago poco, io ti faccio fare poco. Non è che ti sfrutto e ti faccio fare quello che farei fare a un fotografo che prenderebbe una quota completa, un lavoro completo. Secondo me questo è un grande errore e secondo me la colpa qui non è del cliente che non vuole pagare, ma la colpa è del fotografo che accetta. Perché se questo settore è un casino, la colpa non è dei clienti, perché i soldi ci sono e ce ne sono anche tanti. La colpa è delle persone che lavorano nel nostro settore che fanno i lavori per due banane e tre pere, praticamente. Perché in questi due anni di crop abbiamo visto tante persone, tante realtà, che pur di accaparrare sul lavoro fanno dei prezzi che non sono sostenibili. E noi sappiamo quanto costano determinate cose, che spese ci sono dietro, quindi abbiamo imparato a comprendere che sotto una certa cifra non si può andare, perché lavoro è in perdita e non è più lavoro. Caritas. Neanche peggio. 5 per 1000. Esatto. E vediamo che tante persone comunque affrontano i miei lavori con questo spirito solo per lavorare, perché magari pensano che poi la prossima volta il cliente mi fa pagare di più. Ricordatevi questa cosa, se un cliente vi paga poco, la prima volta non vi pagherà mai tanto, continuerà a pagarvi poco, perché voi gli avete insegnato che voi costate poco. Su questo avvocato bisognerebbe veramente parlare mille anni, ci sono mille sfaccettatori e sicuramente ci sarà modo e luogo di farlo in sedi future. Io quello che voglio dire è, io per esempio per un certo periodo della mia vita ho fatto alcune cose a gratis, ma, e qui arriva il punto, in primis l'ho fatta gratis per associazioni e pertanto nessuno delle persone in gioco ci stava guadagnando dei soldi. E già mette le mani avanti su tante cose. In secondo luogo, io quello che consiglio sempre, quando capitani in situazioni del genere, che magari vi possono offrire veramente delle belle occasioni, tipo l'associazione culturale che fa dei concerti, vi dà la possibilità di fare foto e video, magari ufficialmente a gente abbastanza grande, uno si fa un bel portfolio, no? Sì, esatto. Fatevi sempre, comunque, pagare almeno il rimborso spese, perché così date un valore all'esistenza della vostra persona in quel posto. Quindi la benzina, l'autostrada, il cibo, eccetera. Almeno, guardate, io vi faccio le cose gratis perché qui dentro nessuno ci sta guadagnando, ma vi chiedo almeno il rimborso spese per non andare in perdita. Perché poi è giusto investire anche in queste robe. Assolutamente. Ma anche io ho fatto delle cose gratis, però sono sempre state cose dove io ero interessato al progetto. Esattamente. E quindi io volevo quelle foto e non me ne fregava niente di guadagnarci su quel materiale lì, perché sapevo che avrei potuto rivendere come portfolio. Quindi o mi sono proposto io in primis a gratis, ma perché erano situazioni in cui magari conoscevo la persona, c'era confidenza, gli dicevo, sì, a me piace il tuo progetto, vorrei fare un progetto insieme a te, ti serve qualcosa. Ad esempio, l'ho fatto con un amico che doveva far uscire un singolo, un cantante, aveva bisogno di immagini da mandare all'etichetta. Abbiamo parlato un po', cosa vuoi fare questo? E io ho fatto, guarda, io non voglio niente. Dovevo andare giù nelle marche, mi paghi semplicemente il treno per venire giù. Io vengo, faccio, io ci metto il mio, quindi a livello creativo, a livello, ci mettiamo 50-50, perché voglio fare della roba per il tuo progetto, però con la mia testa, e non ho preso un euro. Però è una roba che ho fatto di mia spontanea volontà, con una logica e un senso. Se fosse stato un e-commerce, col cazzo che lo facevo, gratis, perché quella roba lì è merda, ok? Salutiamo tutti gli e-commerce che abbiamo fatto. Ma lo sa anche chi fa gli e-commerce che è merda, parliamoci chiaramente, di sicuro nessuno ama fare gli e-commerce, di conseguenza, di conseguenza, se dovete investire, fatelo per ciò che vi piace, non con la sensazione di essere sfruttati, perché se voi, mentre fate una cosa gratuitamente, o per cifre basse, o solo a rimborso spese, sentite che siete sfruttati, non siete appagati da quello che state facendo, vuol dire che avete cagato fuori, dal vaso e state sbagliando, perché io mentre facevo quella roba lì, ero contento di esserli a fare. È vero, ma adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Un altro mito, che io voglio sfatare, perché purtroppo, forse l'avremmo già detto altri migliori di volte, ma è una battaglia che porterò avanti per l'eternità, basta dire, che l'attrezzatura non è importante. Vero. Sono stronzate. Sapete chi dice che l'attrezzatura non è importante? Chi non ce l'ha. O chi ce l'ha e continua a usare quella roba lì, perché la gente che... Se tu guardi, l'attrezzatura che cosa è mettere, e nella copertina c'è Pocket 6K Pro, con DZO, anamorfiche, cazzi di Ronin RS3 Pro, Mac Studio Ultra, però ragazzi, rimanere umidi, sempre. Baffanculo. Baffanculo. Stiamo registrando con 8.000 euro di attrezzatura, questa roba. Qua sotto ci sono 12 monitor, un computer, una tv da 1.600 euro. E poi magari ci venite a rompere le palle che l'audio non è buono. Non è buono, pezzo, sto ascoltando le mie cuffie di 5 euro comprate dal cinese sotto casa. Nuda contro i cinesi, ce l'ho con voi. L'attrezzatura è importante. Sì, assolutamente. È giusto dire che uno può cominciare con poco, e va bene. Ed è giusto anche dire che con poco si può fare tanto, perché è vero. È verissimo. Banalmente io abbiamo, letteralmente qualsiasi lente G Master esista, sulla Terra, abbiamo lenti di ogni tipo, e io continuo a scattare con il 35, 1.8 da 250 euro di Sony. Perché mi piace? Ma perché lo faccio? Perché mi piace quella lente lì? Ma non direi mai che quella lente è l'unica lente adatta per un potenziale fotografo che fa ritratti, che fa quel cazzo che volete, per lavorare. Perché quella roba lì, no, ha per mille altri discorsi al di fuori, proprio della qualità, ok? L'attrezzatura è fondamentale. Anche perché se no, ragazzi, al di là del fatto che siamo appassionati, se no avremmo tutti quanti dell'entry lab, nessuno comprerebbe una camera da 5.000 euro. Sono coglioni. Non ci sarebbe un mobile di roba lì, non ci sarebbero 12 mobili di attrezzatura. L'attrezzatura è importante, se volete la luce forte, o avete la luce, o è inutile, vi faccio un piccolo spoiler, se unite più 60V di Godox, o di qualsiasi altra marca, non è che formate un 600, se ne mettete 10. Cioè non funziona così, Tio Cristo. Quindi, la cosa importante è arrivarci nel momento giusto, l'attrezzatura sicuramente non vi fa diventare bravi. No, quello assolutamente. Ieri mi è comparso un TikTok di un tizio, che penso abbia un'agenzia creativa o qualcosa, zona Roma, mi sembra dall'accento, sembrava da quelle parti. L'acqua degli obiettivi. No, non so, non mi ricordo il nome, non voglio neanche farne tutto, che parlava, mostrava le sue camere, aveva di tutto, aveva di qualsiasi cosa, che c'era la Q, c'era della roba, quel mobile lì sarà costato 50.000 euro, ok? Però ho detto, cazzo, questo qui spinge, sono andato a vedere le foto che fa, no, no, è bravissimo. Ecco. Un talento, comunque ragazzi, scovaverto il talento nascente della fotografia italiana. Sta spegniti. L'attrezzatura è importante, e soprattutto è importante comprarla nel momento in cui effettivamente serve. Ripetiamo, non diventate bravi avendo più attrezzatura, ma sicuramente lo scopo del comprare oggetti, del comprare roba per fare questo lavoro è facilitare il nostro lavoro. Deve essere solamente questo, ci serve più luce, compro una luce più potente, mi serve più qualità, compro una lente con più qualità, ma automaticamente non è che si compra un 35G Master e fate le foto di Manu. Questo è il punto. Che carino, hai detto che ti piacciono le mie foto. Lo penso. Forza. Quindi questo è un mito. Però, però, volevo dire qualcosa, ma mi sono limitato. Però dammene un altro così subito un hint. Tra l'altro, per chiudere il discorso legato all'attrezzatura, ragazzi, dopo una certa soglia di livello, di lavori proprio, è richiesta un certo tipo di attrezzatura. Non potete presentarvi con la 7.3. Vi ridono in faccia, letteralmente. quindi dopo una certa soglia dovete iniziare a spendere soldi a tuono. E penso che nel video è ancora peggio, perché o c'hai una bestia così o ti guarda, magari questo ne fa i videini. Nel video è più impegnativo. Ci sono tante volte in cui abbiamo montato... In foto lo riesce a camuffare di più. Sì, anche perché in foto la macchina... Ma compri un battery grip, ci metti il cavo di tethering, ci attacchi sopra il trigger del flash. Esatto. Nel video io a volte ho usato Easy Rig senza che servissero un cazzo. Perché il cliente voleva vedere la camera grossa. E torniamo al primo mito. Non è il cliente che non capisce un cazzo. Siete voi che per andare a fare delle storie di Instagram vi presentate con una red e siete dei coglioni. Ecco qual è il problema. Perché per fare una storia di Instagram basta perfettamente una FX3. Punto. Ma basterebbe anche l'iPhone se foste bravi. Ma obbligate il cliente automaticamente ad avere delle pretese del cazzo. E questo qui poi si trova a dover girare con un Easy Ring per fare una storia di merda di 15 secondi. Ha suonato una verità al campanello. È la verità. È la verità ragazzi. È successo. Però comunque io direi che questi sono è un piccolo accenno magari potremmo fare una parte due io vorrei che nei commenti ci dicessero quali sono le loro verità. E poi facciamo una parte due. Perché secondo me questo format dei miti potenzialmente è infinito perché ce ne sono potete dirli anche un po' settorializzati. Chiaramente sapete di cosa ci occupiamo. Quindi non dite tra i fotografi paesaggisti. Io che cazzo non so dei fotografi paesaggisti. Però tra i fotografi paesaggisti ci sarà quello che dirà se non hai filtri all'astra non potrei mai fare un pezzo di merda. Tutte queste ultra cazzate tipo non puoi fare ritratti con il grand'angolo su care sempre. Tipo Olimpus è ancora un gran brand di fotografia. La vera fotografia è in analogico. La street si fa solo in manuale. Il 50 mm è la vista umana. Ma è vero. Tremendo. Cioè se la vostra vista è 50 mm come cazzo fate a pisciare. Vabbè ragazzi vi lasciamo i commenti qui sotto grazie per essere stati qui con noi un lunedì che è iniziato alla grande possiamo dirlo. Assolutamente. Buona Pasqua perché a Pasqua non siamo andati in onda quindi buona Pasqua. Ma meno male che non siamo andati in onda. Speriamo che vi siete ripresi da Pasquetta io non credo ancora. in descrizione trovate il link per acquistare l'uovo di Pasqua di Crop. Non è vero. È quadrato. Però così andavano nel link trovavano tutti i nostri profili li stavo ingannando. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui noi ci vediamo come sempre e ci sentiamo anche nelle migliori radiofrequenze italiane o su Spotify. Ciao ragazzi. Ciao.